Stiamo perdendo il peso, la misura, il senso della parola, le parole sono pietre, possono essere pallottole, bisogna saper pesare il peso delle parole, perché il vento dell'odio è atroce, lo si sente palpabile attorno a noi, ma perché l'altro è diverso da me, l'altro non è altro che me allo specchio. Ed è l'altro giorno la notizia che l'amministratore della Master, il signor Corrado Panesi, ha scritto su Facebook un commento di tal portata, la maggioranza comunale ha fatto bene a negare il patrocinio al Pride Toscana, perché la maggioranza comunale non è ricchiona, io non sono frocio e me ne vanto. Vergogna. Ma ci si rende conto a quali livelli ci si abbassa quando si dice un qualcosa di simile, quando si scrive un qualcosa di simile. Ci si rende conto, siamo peggio delle bestie che per fortuna non sanno parlare. Il web in questo contesto è una polveriera, il web è una polveriera difficile da gestire, ardua da censire, pressoché impossibile da controllare. E allora l'unico rimedio a tutto ciò è l'educazione. Dobbiamo trasmettere ai ragazzi un altro valore, una cultura differente, perché per opporci a questa subcultura dell'odio occorre la cultura della gentilezza, la cultura dell'amore, la cultura del sentire l'altro, perché come ha detto Andrea Camilleri, l'altro non è altro che me allo specchio. E allora dobbiamo anche cercare di educare i giovani alla consapevolezza delle parole, perché oggi regna incontrastata l'idea che le parole siano un fatto trascurabile, quando non è così. Le parole possono cambiare il mondo, le parole possono cambiare le persone, ma allo stesso tempo le parole possono distruggere le persone. E allora, come disse Heidi Giuliani qualche mese fa, sulla testa, sulla testa donne, perché ci stanno mettendo in discussione i nostri diritti civili, sulla testa uomini, perché ci stanno rubando il futuro, sulla testa, perché stanno cercando di fare in modo che l'umanità possa completamente andare distrutta. Noi non siamo come loro, noi siamo l'oro, siamo la diversità, sulla testa.